Ciao, sono Matteo, ho 26 anni e ad aprile mi sono laureato in design del prodotto al Politecnico in una laurea magistrale. Nel corso partiamo dal pattern making, ovvero creando un pattern per seguire e tagliare i vari pezzi in modo preciso. Dopodiché nel reparto giunteria cuciamo tutti i pezzi, anche inserendo le parti tecniche come i contrafforti e il puntalino. Dopodiché riusciamo anche a montare la sneaker sulla forma nel laboratorio e poi incollare la suola. Dopodiché. Dopodiché. Dovito. Dopodiché. No, no, no.